Ciao, come al solito sono Michele Emilio e in questo video ti voglio parlare di modello interno, di paradigma interno. Che cos'è? Fondamentalmente si tratta di quell'insieme di convinzioni inconsce che abbiamo all'interno del nostro io, della nostra mente. Perché viene definito modello o paradigma? Perché fondamentalmente è ciò su cui la nostra mente conscia si poggia, su cui noi andiamo a elaborare i nostri pensieri consci, le nostre azioni, i nostri atteggiamenti, il nostro mindset e tutto il resto. Si tratta quindi di quelle convinzioni che ci portiamo dietro, che possono essere delle convinzioni limitanti o potenzianti. Sono convinzioni limitanti tutte quelle convinzioni che ci fermano, che magari perché abbiamo per esempio paura di fare delle telefonate, e allora non le facciamo, le facciamo male, le facciamo già convinti che andrà male. E quindi cosa succederà? Esattamente questo. Le convinzioni potenzianti invece sono all'opposto, su qualcosa che sappiamo fare da Dio, per esempio, quando siamo bravissimi a cucinare le torte, quando noi facciamo una torta e la portiamo ad assaggiare a qualcuno, non ci preoccupiamo che non gli piacerà, ma siamo sicuri che gli piacerà. Questo è esattamente dettato dal nostro modello interno, dal nostro paradigma, dai nostri paradigmi mentali. Ne parla molto molto bene Bob Proctor, che è anche, diciamo, quello della legge dell'attrazione. Un formatore veramente importante, storico, ormai ha i suoi begli 84-85 anni, che ha formato intere generazioni di persone, di persone di business, persone di formatori e tutto il resto. Ha influenzato migliaia e migliaia di persone, grazie ai suoi studi, e parla molto molto spesso del paradigm shift, cioè del cambiare i propri paradigmi. Prendere i paradigmi sbagliati, o comunque limitanti, i paradigmi che vogliamo cambiare, che noi stessi individuiamo come sbagliati, e farne uno shift. Come farlo in tanti modi? È andato a chiederlo lui. Ma fondamentalmente con la ripetizione. Tu innanzitutto devi individuare quali sono questi paradigmi che vuoi cambiare, e iniziare a lavorarci. Come? Ogni volta che si presentano, li devi riconoscere, e fare l'opposto. E continuare a ripetere. È molto utile anche ripetersi incontinuamente delle frasi, che vadano a rompere quei paradigmi. Registrarsi, ascoltarsela continuamente. Per esempio, che i soldi sono importanti e non sono una cosa negativa, che è un paradigma che molte persone hanno, cioè che i soldi siano negativi. E di conseguenza cosa succede? Se hai questo paradigma, continuerai a restare senza soldi. Perché? Perché è ovvio che consciamente li vuoi, ma inconsciamente li vedi come una cosa che se li hai, li hai rubati, per esempio. Che non è vero. Cioè, nel senso, se ti fai il culo e i soldi li hai, il punto qual è? Se tu inconsciamente, a livello di modello, di paradigma, vedi i soldi come negativi, o le persone che hanno soldi come negativi, automaticamente ti autosaboterai e di conseguenza tutte le azioni che farai per avere più soldi falliranno. Ora ovviamente può sembrare troppo semplificato in questo momento il concetto, ma il concetto di base è molto semplice. Noi abbiamo il nostro modello inconscio, il nostro paradigma, su cui si modella la nostra mente, i nostri atteggiamenti, il nostro mindset, che genera delle azioni. Le azioni saranno positive, negative, utili, non utili, potenzianti o meno, in base a cosa? Al modello, perché parte tutto da lì. Per esempio avere la disciplina di alzarsi presto e andare a correre. Una cosa che ultimamente faccio molta fatica, ma perché? Perché mi sono abituato a non farlo, una volta lo facevo, per diversi motivi ho smesso di farlo, mi sono abituato che ah che bello stare a letto, non che dorma mille ore, però non riesco ad alzarmi facilmente alle sei, e di conseguenza ogni volta che mi dico vado a correre e non ce la faccio, perché poi arriva il momento lì della mattina e non mi alzo, ogni volta rafforzo quella parte che io in realtà vorrei cambiare. Non è una questione di giusto o sbagliato, ma è una cosa che io voglio cambiare in me, e di conseguenza l'unico modo per farlo è continuare a provare, quando capita la situazione che sono lì a letto e dico ah voglio stare a letto, devo dirmi no Michele, alzati e cammina, alzati e vai a correre, in modo tale che vado a lavorare proprio a livello inconscio. So che non sarà una volta che influenzerà il mio modello inconscio, dovrò farlo decine, centinaia di volte. Fallo per un anno e dopo un anno, anche se tu non lo fai più cosciamente, cioè dopo un anno non lo fai più cosciamente, continuerai a farlo, perché hai preso un'abitudine, un'abitudine positiva in questo caso, positiva perché tu hai deciso che è positiva per te. Se la mia abitudine fosse mangiare i biscotti ogni mezz'ora, sarebbe un'abitudine negativa, che è comunque dovuta al mio modello interno, perché io ho identificato come una cosa utile quello, a livello inconscio, però non lo è e quindi dovrei cambiarlo, per esempio. Questo è un esempio estremo, ma un altro esempio di mia attitudine limitante, di mia abitudine limitante, di mia convinzione limitante è quella delle telefonate che citavo prima. Io odio telefonare perché il fatto di non vedere una persona davanti mi turba, mi piace non vedere le reazioni delle persone e di conseguenza cala tutto il mio livello di comunicazione, cala tutta la mia energia nella comunicazione, energia che invece magari davanti alla fotocamera o di persona ho, al telefono faccio molta più fatica. Come combatterla? Telefonando, facendo dei lavori, delle cose, eccetera, per telefonare. Mi metto lì, faccio le chiamate, mi metto lì e telefono a potenziali clienti, potenziali collaboratori, persone con cui voglio parlare. Io una volta non telefonavo neanche per prenotare al ristorante, infatti adoravo tutte le app per farlo. Adesso almeno quello lo faccio. Questo per farti capire come non è solo una questione di cambiare mentalità, migliorare il paradigma per avere successo nel business, ma proprio per avere una vita quotidiana migliore. Migliorare proprio il proprio stato di vita, il proprio benessere di vita nelle piccole cose. Quindi ricapitolando, ti voglio lasciare due piccoli esercizi. Scriviti su un foglio 5 convinzioni limitanti che hai, 5 cose che vorresti cambiare di te, delle tue abitudini, delle tue attitudini, delle tue paure. Scriviti 5 di queste e i 5 modi per cambiarlo, quindi l'azione opposta. Inizia a lavorarci una al mese, una ogni due mesi. Prendi la prima, non importa se sia più o meno importante, anzi ti direi parti da una semplice, in modo tale che ti abitui a farlo. Prendi la prima, ci lavori per uno o due mesi, vedrai che dopo due mesi di costante lavoro, ogni volta che si presenta, fai l'opposto. Ogni volta che tendi a fare quella cosa, fai l'opposto. Combattila con tutte le tue forze, continuati a ripetere l'opposto. Scriviti una frase che ti identifica l'opposto di questa convinzione limitante. Per esempio, io ho paura a telefonare, diventa io sono bravo a telefonare. Io sono capace di telefonare e trasmettere energia. E continui a ripetertelo. Scrivitelo davanti al letto, così ogni volta che ti svegli, leggi. Scrivitelo vicino allo specchio in bagno, così ogni volta che vai in bagno, lavarti le mani, lavarti i denti, eccetera, lo leggi. Registrati mentre lo dici e ascoltati giorno e notte. E continua a ripetere questo finché non hai cambiato questo tuo paradigma. Poi passa al prossimo. E poi è il prossimo. E poi è il prossimo. E continua a migliorare e a lavorare sul tuo paradigma interno in modo tale da arrivare dove vuoi arrivare. Sono certo di averti dato alcuni spunti interessanti. Ti lascio i link in descrizione, qui da qualche parte, anche a Bob Proctor, che è sicuramente un personaggio da seguire, da studiare. In descrizione, come al solito, trovi link ai social, link vari, link alle cose. Lasciami un bel commento su feedback per migliorare questo video. Condividilo in giro ovunque e spammalo, che così facciamo crescere il canale e mi viene ancora più voglia di fare più video più approfonditi su queste tematiche. E noi ci vediamo al prossimo video, direi. Ciao!